Allora oggi abbiamo fatto tie break contro Trento che è una bella squadra perché sono i primi in classifica e sono contento perché ci ho messo del mio perché eravamo sotto 22 a 20 il quarto set e con un buon turno in battuta siamo riusciti a recuperare la partita e a vincere il quarto set e così ci siamo portati a casa un punto molto importante per la classifica anche contro una squadra molto importante purtroppo il tie break abbiamo perso però comunque resta una buona prestazione della squadra che comunque da premiare perché abbiamo combattuto fino all'ultimo per questo punto allora quest'anno sto venendo molto usato da amiche come cambio in battuta e sono molto contento è una cosa che ho curato molto in questi anni a treviso e sono contento di dare una mano alla squadra perché mi rendo utile e quindi questa cosa mi aiuta anche come autostima e mi fa venire più voglia di crescere in allenamento la squadra quest'anno è un gran bel gruppo siamo molto uniti e lavoriamo molto ogni giorno e per ottenere ottimi risultati e secondo me abbiamo avuto degli alti e bassi inizio anno però adesso col duro lavoro stiamo cercando di ottenere risultati migliori e comunque anche nelle ultime partite si è visto nonostante abbiamo perso le ultime due però comunque abbiamo fornito due belle prestazioni contro prima e seconda della della serie b abbiamo ancora dei momenti in cui magari non non siamo troppo decisi sul prendere il pallone però sono cose che si lavorano nel si migliorano nel nell'allenamento e sono molto convinto che riusciremo a sistemare queste piccole imprecisioni che abbiamo a presto a presto Grazie a tutti.